Elia si completano, hanno in comune la memoria, comunque lui è attaccatissimo alla sua memoria e lei invece vuole lasciare tutto dietro per ricercare un mondo migliore. In quel senso secondo me sono due parti di una stessa persona e l'equilibrio giusto perché per me abbiamo bisogno nella stessa volta di memoria, di rituali, di tradizione e nello stesso tempo abbiamo bisogno di fasi nelle quali uno stacca e va alla ricerca del suo mondo migliore. Però tutti e due per me sono importantissimi.